Pillole per il cuore, note per la mente. Spettacolo questa sera al Teatro Obafremont. C'è Sergio Vespertino pronto già a dare il meglio di sé. Sì, io sono molto sensibile a queste iniziative, poi addirittura pillole per il cuore ci vuole. Dobbiamo cercare di essere, ecco, questo grande buonismo che in questo periodo, diciamo, di festività andrebbe steso per tutto l'anno. Io sono subito pronto, poi Caltanissetta per me è una città che amo e che più volte vengo con gioia. Perché no, esserci. È bello soprattutto stare prima questa mattina accanto ai ragazzi e poi stasera, insomma, anche con gli adulti. Infatti, stamani una prima parte, questa sera è il clou. Sì, sì, adesso ho appena dato un'idea di quello che può essere ridere del quotidiano, ridere di noi stessi, che è il modo più interessante per fare autoironia e compiacersi. E nello stesso tempo anche un piccolo momento di riflessione su quelle cose che un po' dovrebbero pian pianino cambiare, sempre rivolte verso un'etica e una morale con grande sensibilità. Questo ci tengo tanto. Ridere fa bene al cuore. Ridere fa bene al cuore, ridere anche di se stessi fa bene ancora di più e ridere dei propri problemi senza piangersi addosso. Perché veramente basta lagnarsi di tutto e di tutto. Perché è arrivato a un certo punto poi questo non sviluppa niente. Non bisogna neppure avere paura del futuro. Anche perché ancora non l'abbiamo neppure scoperto noi. Ci stanno rubando il futuro. Ma chi ce lo sta rubando? Tutto va da noi su questa crescita di saper cambiare e trasformarci. Sergio Vespertino è un po' un'icona del mondo cabrattistico siciliano. Ma dove va questo mondo? Questo mondo continua a modificarsi. Continua quasi una legge darwiniana. Cioè è chiaro che se noi sappiamo trasformarci e modificarci e rinnovarci ormai si è tutto quanto globalizzato. Quindi tutte quelle che erano prima le distanze così talmente significative quando è che si era anche più piccolo io. Quando è più piccolo che per me i viaggi erano solamente fatti di pochi chilometri e basta. Per me tutti i confini del mondo erano solamente della mia città inizialmente. Ormai ecco dobbiamo pensare anche sotto l'aspetto lavorativo sotto l'aspetto di quelle che possono essere delle opportunità e le dobbiamo pensare ormai in ampio raggio. Quindi per quello dobbiamo studiare, rinnovarci e sacrificarci. Se non lo facciamo è inutile. Stasera farò sicuramente dei classici così come il bollitore quindi la famigerata puntura oppure parlerò un pochettino come sempre di mia mamma dove mi ha molto traumatizzato benevolmente ovviamente perché lo spettacolo nuovo attualmente è in scena a Palermo e lo terrò sino all'1 di febbraio. Quindi c'è uno spettacolo che si chiama Stra Felicissima Palermo chi volesse insomma anche da Caltanissetto o da ogni luogo venire in città un fine settimana a Palermo che ben venga perché troverà qualcosa assolutamente di nuovo.